Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla presentazione ieri mattina nei locali dell'ex chiesetta San Biagio di un nuovo soggetto politico denominato sviluppo democratico progetto comune presenti i componenti della giunta municipale di Gela retta dalla sindaco Domenico Mersinese ma anche diversi esponenti politici appartenenti alle varie forze presenti in città Soci fondatori del nuovo soggetto politico sono proprio il sindaco e quattro assessori della sua giunta Da soli non si va da nessuna parte, presto ufficializzerò in consiglio comunale la mia adesione a sviluppo democratico portò avanti il programma con il quale mi sono presentato alle elezioni Lo dice la sindaco di Gela Domenico Mersinese in occasione della presentazione ieri mattina nei locali dell'ex chiesetta San Biagio di un nuovo soggetto politico denominato sviluppo democratico progetto comune Il sindaco dopo essere stato eletto a furor di popolo nel giugno dello scorso anno nelle fila del Movimento 5 Stelle per poi nel mese di dicembre essere stato espulso dal Movimento per avere buttato fuori a sua volta tre assessori grellini ha detto di essere disponibile ad un confronto con tutte le altre forze politiche presenti in città Gela ha bisogno di nuove prospettive, ha detto Mersinese nel corso del suo intervento L'elemento fondante della democrazia non è la contrapposizione ma la condivisione Alla presentazione del nuovo soggetto politico che non è né di destra né di sinistra né di centro ha sottolineato Mersinese erano presenti tutti i componenti del suo esecutivo ma anche diversi esponenti politici appartenenti alle varie forze politiche del territorio Soci fondatori del nuovo progetto politico sono proprio il sindaco Domenico Mersinese e quattro assessori della sua giunta il vice sindaco Simone Siciliano e gli assessori Francesco Salimitro, Flavio Di Francesco e Fabrizio Morello mancano all'appello gli assessori Licia Bela e Rocco Darma Presidente è stato eletto il webmaster Giuseppe Ventura vicepresidente Emanuele Bonaventura, moderatore dei lavori mentre coordinatore è stato nominato Emanuele Ferrara fanno parte del direttivo Giussi Callea, Grazia Pizzardi, Salvino Legname, Rita Scicolone e Dino Cani Alla presentazione di sviluppo democratico ha preso parte ieri anche il segretario locale del Partito Democratico Peppe Di Cristina presente anche il consigliere comunale della lista Musumeci Enzo Cascino Gela, ha detto il vice sindaco Simone Siciliano, si è ritrovata a pianificare il suo futuro senza direttrici diventa fondamentale fare rete e puntare sui nostri punti di forza la prossima tappa di questo progetto, ha detto l'assessore Morello è la costituzione di un laboratorio di idee dove ognuno può dare il proprio contributo per rilanciare l'azione amministrativa Abbiamo tante potenzialità, ha detto l'assessore Francesco Salinitro ma dobbiamo anche fare i conti con una carenza di infrastrutture e con una serie di vincoli che bloccano il nostro sviluppo Il PRG che abbiamo ereditato è un brutto piano ma bisogna concludere il lo suiter al più presto Presenta ieri anche il parlamentare regionale del PD Giuseppe Arancio il quale ha esortato i cittadini ad essere parte attiva Hanno preso la parola anche gli imprenditori Davide Melfa e Salvino Legname il pediatra Antonio Linciani e l'avvocato Maurizio Scicolone La situazione del piano urbano della mobilità sostenibile a Gela è sempre più incerta e l'amministrazione sembra non aver fatto nulla per dare seguito a questo fondamentale strumento urbanistico Noi con lo spirito propositivo già in febbraio avevamo chiesto all'amministrazione di attivarsi affinché i soldi predisposti per il PUM non venissero persi Purtroppo la Giunta non giudica valide le nostre proposte e l'adozione del PUM sembra oggi compromessa lo dice il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Così ancora una volta si legge in una nota presentiamo all'amministrazione l'opportunità di fare cose reali e concrete per la città nella speranza che questa nostra azione sia stata già preceduta dall'Aggiunta stessa sarebbe importante visti i tempi stretti Il Ministero dell'Ambiente ha bandito il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro un programma che consente di ottenere importanti finanziamenti nell'ambito della green economy per quei comuni che presenteranno progetti entro il 10 gennaio Il Comune di Gela può associarsi con altri comuni per la presentazione del progetto Di sicuro l'Ufficio Europa del Comune ci starà già lavorando Noi, dicono i grillini, nel rispetto del ruolo politico presentiamo una mozione affinché il Consiglio Comunale impegni la Giunta ad attivarsi subito Il futuro della città passa dal reperimento dei fondi europei in maniera organizzata per costruire una città senza improvvisazioni ma con scelte coordinate e concrete Un documento sul riconoscimento della lingua dei segni italiana siglato a Caltanissetta dai giovani democratici della provincia e dall'ENS provinciale oltre che la creazione di un nuovo servizio rivolto interamente agli studenti disabili e una consulta sulle pari opportunità Questo l'impegno dei giovani democratici di Gela Il movimento politico ha già avviato una prima importante iniziativa sul bonus cultura che ha visto la creazione di uno sportello informativo e che ha riscontrato un buon successo tra i giovani Tanti progetti in cantiere per il bene della città e della collettività E adesso cambiamo argomento e parliamo della trentottesima giornata del Donatore promossa a Gela dall'ADAS festa al Cineteatro Antidoto di Macchitella Trentottesima giornata del Donatore si è svolta ieri a Gela promossa dall'ADAS preseduta da Enzo Emanuello Un momento di condivisione per ringraziare quanti contribuiscono saltualmente o abitualmente a mantenere la donazione del sangue L'iniziativa si è svolta nei locali del Cineteatro Antidoto di Macchitella C'è davvero un grande riscontro da parte del donatore Noi ci accorgiamo che i donatori quando vengono ad affollare l'unità di raccolta o vengono in sede vengono davvero con il sorriso tra le labbra e questo è una cosa che mi riempie di gioia perché, ripeto, associare la donazione alla freschezza di un gesto così bello e al sorriso è quanto di più bello possa ricevere una persona come gratificazione Stiamo adeguandoci anche con delle app particolari la Smart Donor, per esempio Questa è un'altra applicazione che comunque i donatori potranno attivare non appena finirà il momento al momento è un'applicazione che è in prova e poi niente, a noi piace tantissimo vedere l'ADAS sia l'unità di raccolta che la nostra sede è sempre piena di gente, sorrisi, tanta allegria è chiaro che comunque ci vuole la professionalità di tante persone che comunque fanno il bene e il proprio dovere ma è giusto che questo gesto venga fatto con la giusta allegria la giusta gioia, perché donare è proprio un momento di gioia La manifestazione è stata presentata da Giacomo Giurato e da Monica Bevelacqua tra i presenti anche il sindaco Domenico Messinese Un piacere per me essere qui presente anzi, vi ringrazio per l'invito speriamo che con la semplicità e con la generosità che vi caratterizzi il nuovo anno prosegua come sono stati gli anni passati Non è facile fare quadrare i conti a livello economico ma ci sono di fare delle scelte e sicuramente tra la possibilità di dare, di salvare una vita credo che le scelte sono un po' vincolate quindi è chiaro che l'amministrazione cercherà di essere più possibile vicino alle associazioni tutte Il Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana È uno dei tanti segni, certamente questo è un segno forse quello che si vede di meno in realtà ma è uno dei tanti segni di solidarietà vera di apertura, di attenzione all'altro quell'altro che ha un volto e a volte può anche non avere un volto conosciuto però nonostante tutto lo si tratteggia dentro il proprio cuore lo si sente cioè immaginiamo che cosa significa che un'altra persona porta il mio sangue e comunque ci portiamo il sangue vicendevolmente che significa? Significa che davvero siamo tutti consanguinei tra virgolette cioè appartenenti all'unico Adamo e da qui che dovremmo sempre più riscoprire il senso della nostra fraternità La serata è stata chiusa dal comico palermitano Antonio Pandolfo con il suo spettacolo Pandemonio L'essenziale non è ciò che facciamo ma come lo facciamo ogni giorno col cuore la gioia, la passione, la competenza, l'entusiasmo la condivisione, l'unione, l'allegria la discrezione nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso Con questo spirito l'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela l'Admo, associazione Donatori Midollo Osseo sezione di Gela preseduta da Giacomo Giurato in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele presentano l'evento Solidiamo una giornata in allegria donata ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria Appuntamento il prossimo giovedì alle 10.30 saranno consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi guidati dal docente Emiliano Sigona l'evento giunto alla terza edizione è finalizzato alla promozione della donazione di Midollo Osseo che ha come obiettivo quello di reclutare giovani donatori di Midollo l'unico modo per garantire ai malati in attesa di un attrappianto una possibilità per riappropriarsi della loro vita Le associazioni nazionali dei Carabinieri della Guardia di Finanza e della Polizia di Gela organizzano per giovedì 15 dicembre una celebrazione eucaristica in occasione del precetto natalizio che si darà presso la Chiesa Sant'Agostino con inizio alle 18 la messa sarà ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza del Medina Monsignor Rosario Gisana alla presenza di autorità civili militari e religiose prevista anche la presenza del coro perfetta Letizia San Giovanni è finita nel sangue la rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in Viale della Regione decalcia la macchina sembrerebbero siano stati la scintilla che ha innescato la rita intorno alle ore 2.30 nell'area vicina al distributore di benzina frequentata il fine settimana da numerosi giovani anche se carabinieri stanno cercando di far luce sul movente che appare ancora poco chiaro dalle parole infatti sembrerebbe che si sia passati a una scazzottata poi colminata con il finimento del proprietario dell'auto un 29enne nisseno tre colpi difendente tra il torace e il fianco che hanno fatto accasciare il giovane per terra mentre stava risalendo sulla sua auto il 29enne è stato trasferito d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Elia i medici hanno temuto il peggio per il giovane a causa di una morragia e una lesione renale provocata da una coltellata tenendolo sotto osservazione tutta la notte scongiurato l'intervento chirurgico che era stato prospettato nelle prime ore le sue condizioni sono buone il giovane non è in pericolo di vita anche se rimane la prognosi riservata dei medici serrate le indagini dei carabinieri sin dalle prime ore per tentare di individuare le persone coinvolte nella rissa che hanno vagliato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dei fatti 10 in tutto le persone coinvolte tutte in insene così come è stato riscontrato dalle immagini i carabinieri hanno anche ritrovato nei cassonetti di viale della regione degli indumenti sporchi di sangue che sono stati sequestrati le indagini adesso puntano a risalire alle singole responsabilità dei giovani coinvolti di chi ha partecipato alla rissa e di chi ha materialmente inferto le coltellate quest'ultimo rischia la pesante accusa di tentato omicidio si darà giovedì 15 dicembre alle 17 nell'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela diretto da Giacchino Pellitteri la presentazione del libro Ludibrio Sidi Haber di Federico Efer l'iniziativa è dell'Uni3 preseduta da Angela Scaglione introdurrà i lavori Liborio Mingoya docente responsabile culturale Uni3 Oltre ai Parigi è il libro di Salvo Andò e Anna Lucia Valvo che sarà presentato venerdì 16 dicembre alle 17.30 nell'ex chisetta San Biagio di Gela nell'ambito dei venerdì letterari promossi dalla libreria Mondadori e dall'assessorato comunale alla cultura saranno presenti gli autori introdurrà i lavori Angela De Maria Sopra luogo della settima commissione consigliare trasparenza in via Ferdinando I luogo individuato per l'ubicazione del mercatino settimanale del sabato in previsione del consiglio comunale convocato per lo spostamento del mercatino i consiglieri comunali hanno voluto visitare il luogo che dovrà ospitarlo in modo da formulare un atto di indirizzo più consapevole da anni infatti gli ambulanti del mercatino chiedono all'amministrazione comunale oltre maggiori controlli contro l'abusivismo di individuare una zona alternativa a Pian del Lago più vicina al centro abitato facilmente raggiungibile dagli avventori una prova tecnica della nuova obbligazione si è svolta lo scorso primo ottobre in coincidenza della fiera di San Michele una location che è stata apprezzata sia dagli ambulanti sia dai nisseni così come emerso nell'inchiesta che abbiamo realizzato in quell'occasione espresso il parere del consiglio comunale la giunta dunque dovrebbe deliberare lo spostamento del mercatino in realtà devo dire non c'è una proposta fatta dall'amministrazione che verrà esitata oggi pomeriggio ma immagino ecco si sarà si sarà soltanto un atto di indirizzo che può essere così come si sa abbastanza importante per indicare all'amministrazione il volere non solo del consiglio comunale ma chiaramente della città e meglio ancora degli operatori che hanno evidenziato in questi anni più volte la volontà di spostare il mercato da Pian del Lago appunto a questa zona e ricordo che negli ultimi due anni proprio in vista della in concomitanza della festa di San Michele il mercatino è stato spostato proprio qui in questa via e gli operatori l'hanno visto di buon grado proprio per questo la commissione settima immagino tutto il consiglio comunale esiterà oggi pomeriggio un atto di indirizzo dove se è possibile vedremo anche se tecnicamente tutto è possibile si sposterà il mercato proprio qui in questa via controlleremo che viabilità e tutto quanto sia appunto nella possibilità di effettuarlo proprio in questa zona la criticità è proprio sulla viabilità perché è vero che la zona si presta e gli operatori ne sono contenti però è anche vero che la viabilità soprattutto dei residenti potrebbe essere appunto qualcosa di difficoltoso sta tutto poi nell'organizzazione io in questi due anni sono sceso sono venuto qui al mercatino proprio a visionare i luoghi quando gli stand erano sistemati erano montati e devo dire che se tutto va fatto con ordine quindi la presenza della polizia municipale è costante è chiaramente anche tra virgolette repressiva per le persone per gli operatori che montano magari non in uno spazio autorizzato o che si mettono in posizioni che magari non sono appunto consone il tutto si può svolgere ordinatamente altrimenti è chiaro che si crea qualche fastidio perché è chiaro che la zona è più stretta di Piannellago quello è uno spazio tra l'altro che di fatto diventa chiuso alla circolazione e qui bisogna organizzare un po' il tutto dal 16 al 22 dicembre e dal 28 al 30 dicembre nella suggestiva piazza Santa Madre di Teresa di Calcutta antistante la parrocchia Santa Maria di Bettelemme a Gela si trarrà il presepe vivente con i tradizionali personaggi gli usi e i costumi del periodo della natività gli orari sono eseguenti dalle 18 alle 23 l'avertura mattutina è dedicata alle scuole e torna il presepe vivente allestito dalla associazione SMAF sport, musica, arte e folclore preseduta da Gaetano Davide Arizzi appuntamento i prossimi 25, 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo dalle 19 a mezzanotte all'ingresso del presepe via Casale Angolo piazza Salandra al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che in parte verrà devoluto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia con il biglietto di ingresso si avrà diritto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del nostro territorio appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21 nostro ospite sarà Ennio Turco direttore del Polo Museale di Gela le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi lunedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente conferire piccoli oggetti di uso domestico nastro adesivo penne carta carbone oleata plastificata e da forno posate in plastica sottovasi bacinelli materiali in plastica non di imballaggio giocattoli elettrici e nonna cassette audio e video floppy disk cd tv spugne sintetiche e stracci sporti cosmetici calze in nylon lumini votivi pannolini assorbenti igienici sacchetti aspirapolveri mozzicone di sigaretta è assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto riccoci seconda parte del telegiornale la confcommercio Gela sta avviando i corsi sulla sicurezza si tratta del corso responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore rischio basso e del primo soccorso di 12 ore rischio basso e medio gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segreteria della confcommercio Ascomo Gela in via Cicerone 104-110 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 c'è anche un numero telefonico 0933 93 97 18 appuntamento con la musica domenica 18 dicembre alle 19 nella chiesa Sant'Antonio di Gela previsto il resital pianistico di Nicolò De Maria e ora parliamo di calcio il Gela perde Alentini contro la Sicula Leonzio ma recrimina per un arbitraggio ritenuto non all'altezza i biancazzurri hanno giocato per quasi 80 minuti in inferiorità numerica a seguito dall'espulsione del difensore Campanaro è finito 2-1 per la Sicula Leonzio il derby con il Gela un derby giocato col coltello tra i denti dalle due formazioni che volevano assolutamente vincere alla fine sono stati padroni di casa a brindare interrompendo la sequela dei risultati utili consecutivi dei gelesi quattro vittorie ed un pareggio ma è stato un derby che l'arbitro Alberto Catastini di Pisa ha macchiato per alcune decisioni ritenute incomprensibili non ha usato lo stesso metro di giudizio in due episodi fotocopia al tredicesimo del primo tempo ha espulso il difensore biancazzurro Campanaro Reo di avere commesso fallo in aria ai danni di Randis espulsione e rigore che ci stanno ma al settantatresimo in area lentinese è stato atterrato buon anno rigore secrosanto ma solo ammunizione per il difensore Cacciola episodi che alla fine della contesa hanno pesato e il tecnico dei gelesi Pietro Infantino lo ha detto a chi la lettere senza giri di parole la cronaca parte subito forte la squadra allenata da Francesco Cozza alla terzo minuto Randis colpisce il palo bravissimo Seitta a negare il gol a Marino dieci minuti dopo arriva il rigore per la Leonzio Campanaro come dicevamo a terra Randis cartellino rosso dal dischetto lo stesso Randis fa 1 a 0 il Gela in Dici Uomini tenta subito una reazione al diciottesimo il portiere Biondi si supera sul calcio di punizione battuto da Kosovan e il Gela a fare la partita al trentaduesimo è il palo a negare la gioia del gol a Montalbano nel secondo tempo c'è un gol annullato giustamente alla Sicula per un fallo in area biancazzurra al ventottesimo l'episodio è chiave Cacciola commette fallo su Bonanno e penalty e ci starebbe anche il rosso ma il direttore di gara estrae solo il giallo dai undici metri Montalbano non fallisce uno a uno a quel punto i padroni di casa cercano il gol vittoria ancora bravo ed attento il portiere Saitta altrettanto bravo l'estremo difensore Biondi sul piazzato di Bonanno sul capovolgimento di fronte arriva il 2-1 dei Lentinesi lo segna ad otto minuti dalla fine Foderaro Bonanno ha sui piedi la palla buona per il pari ma la conclusione del numero 9 termina alta finisce 2-1 in classifica i giolesi sono stati superati dalla Leonzio il team del presidente Tuccio ha però una partita da recuperare quella con la Turris prevista per giovedì 22 dicembre domenica si torna in campo il Gela al Presti se la vedrà con la Sarnese squadra che si trova in piena zona play out quello di ieri intendiamolo un incidente di percorso il Gela è vivo e l'ho ampiamente dimostrato ieri sul campo siracusano e per giunta in 10 uomini ma sentiamo a fine partita il commento dei due tecnici quello che decide l'arbitro alla fine va accettato perché non è che sbaglia tanto per sbagliare o non sbaglia sbagliamo tutti quindi qualsiasi errore che ha potuto fare l'arbitro su rigore non rigore espulsione non espulsione va accettato perché alla fine durante un campionato intero ci sono i momenti che ti vanno a favore i momenti che ti vanno contro oggi noi purtroppo soffriamo sul piano fisico sulla seconda palla dove dobbiamo lavorare per migliorare e cercare di trovare quella condizione fisica che per il momento manca a questa squadra fino al gol abbiamo giocato noi poi dopo il gol hanno iniziato loro solo sul lanci lunghi sulle giocate dei singoli non è che si è giocata a calcio sia da una parte che da un'altra hanno fatto sì che il loro lato sul piano fisico dove arrivavano sulla seconda palla ci hanno messo in difficoltà ma però sul piano del gioco nessuna delle due squadre oggi ha giocato a calcio si giocava solo palla lunga perché era difficile poter giocare su questo campo poi c'è da fare una considerazione noi abbiamo giocato giovedì e loro hanno riposato non abbiamo perso oggi noi non andiamo dietro al punticino della classifica ma un progetto che si è avviato a settembre e continua una crescita importante anche oggi hanno dimostrato che il vero leader è il gruppo credo che la mancanza di 3-4 giocatori esperti rafforza quell'idea che qui non parliamo di un giocatore ma parliamo di un gruppo importante senza guardare né l'età né da dove provengono credo che guardiamo solamente la qualità umana e la qualità tecnica e la volontà di essere protagonisti di una piazza con una maglia un po' pesante anzi pesante questi 25 ragazzi che hanno disputato questa partita oggi in un campo pessimo credo che l'unico sconfitto è lui credo che non è stato all'altezza di questa partita un derby importante due piazze blasonate uno spettacolo stupendo per queste categorie lui è stato molto ma molto indeciso io non parlo di malafede non parlo di parlo che è stato è andato in confusione è una partita importante per questa categoria due squadre con una classifica importante due squadre che hanno una maglia importante l'unico a perdere oggi credo che sia stato lui io accetto sempre il risultato finale perché credo che anche dall'altra parte c'è stata grande qualità grande corsa voglia di vincere io non mi permetto mai di parlare degli avversari in un modo particolare io credo che dall'altra parte anche loro hanno fatto la loro partita alla fine accetto sempre il risultato finale significa qualcosa anche gli altri hanno fatto io sono concentrato sulla mia squadra una squadra che sta crescendo giorno dopo giorno una squadra che scende in campo per essere protagonista una squadra che se la vuole giocare una squadra che oggi è venuta con un difensore nel senso che dopo dieci minuti eravamo solo Brucaletta credo che questa squadra si difenda attaccando non riesce a difendersi e mettersi tutti dietro e anche sull'1-1 abbiamo cercato di giocare la nostra partita fino alla fine senza guardare il punticino e nel campionato di eccellenza la cura Brucculeri comincia a dare i suoi effetti al terra Novagela ieri al Presti i gelorossi sono riusciti a fermare la corsa della capolista Paceco il risultato finale è stato di 2-2 il gol definitivo dei gelesi è giunto in zona Cesarini un punto che fa soprattutto morale considerato che in classifica i gelesi sono sempre ultimi però con un tecnico Totò Brucculeri in più prima gara ufficiale primi tre punti per la squadra dell'antiracket Gaetano Giordano di Gela al torneo Champions regionale Sicilia UISP a Villa Rosa in provincia di Enna la compagine presieduta da Renzo Caponetti e guidata dal tecnico Rocco Fisci ha vinto per 5-0 doppiette per Dario Di Dio e Manolo Brancacci un gol lo ha realizzato Nicola Zuppardo gli allievi della scuola di ballo Lions Dance di Gela hanno ottenuto ottimi risultati nella Coppa Sicilia che si è svolta sabato a Catania organizzata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva nella settore delle danze latino-americane hanno ottenuto il primo posto la coppia formata da Daniel e Aurora Curva nella categoria 11-12-C2 e la coppia formata da Davide Pasqualino ed Emanuela Ferrigno nella categoria 14-15-C2 Stefano Castelletti e Flavia Alabiso hanno ottenuto il terzo posto nella categoria 12-13-B3 quinto posto per Cristiano Di Bartolo e Sofia Storiale nella categoria 16-18-B2 e quinto posto per Gabriele Corfu e Bernadette Di Dio nella categoria 12-13-C semifinalisti nella categoria 11-12-C2 sono Antonio Di Paola e Paola Manichino le coppie sono seguite dai maestri Mirko e Antonino Runza abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni e